Buongiorno a tutti, sono Deborah Landolfi dell'Agenzia Immobiliare Remax di Varese. Lei è la mia bellissima collega? Valentina Squizzato, Remax Karma, Varese. E oggi siamo qui per ricordarvi che questo sabato, che ne abbiamo 7 dicembre, dalle 10.30 alle 13, potete visionare liberamente, senza nessun tipo di appuntamento, tre immobili che adesso vi spiega la mia collega. Allora, abbiamo due magazzini al piano rialzato, uno piccolino da 28.000 euro e uno grande da 48.000, più un bilocale ampio a 98.000 euro, che potrà essere trasformato tranquillamente in un trilocale, avendo degli spazi molto grandi. Questi immobili sono tre immobili, ovviamente non è necessario comprarli tutti e tre, che non sarebbe male, però tranquillamente possono essere vendibili separatamente. Si trovano in una corte, quindi zero spese condominali. Cos'altro dirvi? Dove si trovano? Siamo in centro a Gavirate, mia marsala numero 2, vicinissime alla stazione e a tutti i servizi di prima necessità. Cos'altro dirvi? Niente, vi aspettiamo questo sabato, da che ora? Dalle 10.30 alle 1, 7 dicembre. Ultimo open house dell'anno! Visite libere, senza appuntamento. E vi aspettiamo, saremo io e lei, quindi dovete assolutamente passare a visionare questi tre immobili. A presto, ciao!